Bentornati ragazzi su Football Manager 2022 con la nostra Fiorentina. Oggi faremo un episodio un po' più corto. Ci giocheremo Udinese, Chelsea e forse Sassuolo. Purtroppo oggi ragazzi ho veramente poco tempo, mi dispiace. Però la cosa più importante è che riusciremo a giocarci la partita di ritorno contro i Chelsea. Beh, vedo che stanno tutti bene. Comunque, comunque in quella fascia sinceramente metterei Wobber e Thomas noterrei per il Chelsea. Bogazza, Martic va bene. Blaovic oggi turno di riposo e per il resto direi che sono d'accordo. Sì, Martic farà fatica ma, ma dovrà farlo. Ragazzi, dai. Contro Udinese si può fare, si può vincere e io pretendo una vittoria. Lo pretendo, lo pretendo. Ebbene sì. Sono passati 15 minuti e ancora nulla di nulla. Ecco. Ma porca, ma porca. Partenza veramente buona ragazzi, complimenti eh. Raga, su. Cioè io vi scongiuro. Ho fatto due cambi, eh. Non un 600. Ho fatto due cambi. Non è che abbia poi cambiato così tanto della squadra. Su via. Dai. Gavi. Gavi. Ma no, ma no. Ma no, santo cielo, no. Peccato. Domanda di più. Raga. Ti svegliamo? No, eh. No, mi sa che non ci svegliamo. Ahimè mi sarà di no. Mi sa che... Mi sa che sarà problematico questo... Questa partita. Ah oh. No raga, non è possibile. Rubiamo sto pallone, no eh. Non vi va, ho capito. Molina sulla fascia. Mamma mia Beto. Va a far fall... Eh Beto. Ramsdale va a far falle completamente, completamente. Dai, rega, però. Non si può così. Cioè, svegliamoci veramente. Mamma mia. Mamma mia. Ho l'angoscia. Ho l'angoscia per quello che ho visto in questa prima parte di partita. Allora, Boga oggi è chiaro che non ci sia. E mettiamo Nico González come Samartic che anche no. Mettiamo Castrovilli. E mettiamo Dusan Vlaovic. Purtroppo mi tocca giocare con lui. E io chiederei di fare un ritmo di gioco molto più alto per poterla, quantomeno, recuperare questa partita. Anche perché va bene tutto, ma io non vorrei perderla. Vi prego, vi scongiuro. Odriozzola. Eh, però dorme. Passaggio inguardabile. Sinceramente parlando. Ermoso. Per Wober. Bravo, Ermoso. Con calma. Odriozzola. Odriozzola ci prova. Traversa. Ebbè. Quest'anno c'è in Football Manager una tendenza incredibile a beccare traverse. Cioè, è una roba veramente senza senso. Perché nella realtà non è che becchi tre traverse a partita. Cioè, capita quella partita che magari becchi due traverse, tre, può capitare. Ma non tutte e quante le partite. Santo cielo. Niente. Non sa da fare, eh. No, non sa da fare. Purtroppo, purtroppo oggi non è andata molto bene. Spero che sia perché la squadra abbia la testa contro il Chelsea. Me lo auguro, quantomeno. Perché? Se devo perdere, per perdere pure contro il Chelsea, anche no. Ma se devo scegliere tra perdere contro il Chelsea o contro l'Udinese, sceggo l'Udinese, giustamente. Quindi per carità. Se questa sconfitta ha un ruolo costruttivo, bene. Però deve avere un ruolo costruttivo. Niente. Comunque 2-0 veramente brutto. Abbiamo perso una partita... Vabbè che... Cioè, in realtà, raga, il terzo posto è abbastanza saldo. Però... Terzo o quarto che sia. È abbastanza saldo. Però, insomma, non vorrei rischiare. Non vorrei rischiare. Vorrei chiuderla il prima possibile, questa stagione. Sesco sta migliorando. Ho capito, però... Cioè, non è che mi sembra proprio il momento giusto per dirlo. Dopo una bruttissima prestazione che ha fatto contro l'Udinese. Cioè, veramente. Poi magari è vero che non gli sono arrivati i palloni granché giocabili. Allora, Ricci... Vabbè. Della Port... Rega, Della Port... Della Port è un gran bel... Gli manca questo attributo. La finalizzazione. Se migliora anche quello... Potremmo portarlo in prima squadra. Un giorno. Chi lo sa. Anche Scarlett sta lentamente crescendo. Lentamente. Allora, Rega. Contro... Contro il Chelsea. Io... Io voglio una grande partita. Io voglio anche... Io voglio una grande partita. Non sarà semplice. Però, ragazzi, è l'occasione della nostra vita. È l'occasione della nostra vita. Chelsea-Fiorentina. Partita stra-fondamentale. Per questa stagione. Veramente stra-fondamentale. Sarà dura, però... Voglio crederci. Mamma mia, Lukaku. Becca la traversa. Per una volta sugli avversari che beccano traverse. Non solamente noi. Allora. Il primo quarto d'ora è andato sullo 0-0. No, vi prego, vi prego, vi prego, vi prego. Gol di Havertz. Gol di Havertz. Ebbene sì. Ebbene sì. Ebbene sì. Havertz fa... Fa un colpo di testa meraviglioso. Purtroppo la nostra difesa, come più volte abbiamo visto sui cross, sui calci piazzati, è inguardabile. E questo, purtroppo, è vero. E così va. Allora. La squadra non ha... Non mi sta reagendo, però, eh. Non mi sta reagendo. Alziamo un po' il ritmo del gioco. Un pochettino, eh. Non dico... Di suicidarci, però... Un pochettino sarebbe gradito. Ma ci vuol da solo chi lo marca? Mamma mia. Rischio incalcolabile. Rischio incalcolabile, veramente. Punizione per il Chelsea. Batte, batte James. Mamma mia. Stiamo rischiando un po' troppo, eh. E non facciamo tiri in porta. Che sia il momento? Che sia il momento? Vogà. Per Barco. Barco! Barco la pareggia! Barco la pareggia! Dai, 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 dai! Dai, dai, che si può fa' Calma! Calma! Metti Cialoba! Metti Cialoba! Metti Berg! Metti Hermoso! Eh, Thomas, se la fa tutta lo stesso. Mi dispiace, Thomas, ma ti doc. Barco, per Dusan. Dusan Blauvic! Dusan Blauvic! Non ci credo! Siamo avanti! A tre minuti, dalla fine. Calma. Calma. Intanto... Loda. Poi. Poi. Abbassiamo un po' il ritmo di gioco. Perdiamo tempo. Calma. Rega, siamo in semifinale. Siamo in semifinale. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci... Non ci credo. Non ci credo. Siamo passati con una partita inguardabile. Loro meritavano. Però siamo passati comunque noi. Siamo stati più concreti. Sottoporta. E si va in semifinale. Non ci credo. Mamma mia. Bayern Monaco. È dura. È dura. È inutile dire che sarà durissima col Bayern Monaco. Sarà durissima. Sarà durissima. Però intanto la cosa buona è che siamo riusciti a battere il Chelsea. Che già la semifinale è un gran bel risultato. Parliamoci chiaro. È un gran bel risultato. La squadra purtroppo contro il Sassuolo non è che stia proprio in forma smagliante. Ma vabbè. Ce ne faremo una ragione. Ce ne faremo una ragione. Ragazzi. Dai. Diamo seguito a questa vittoria col Chelsea. Diamo seguito. No. C'è. C'è Alende. È lui? No. Un secondo. Raga. Non può essere lui. È veramente lui raga. È veramente lui. È veramente lui. Se perdiamo contro Alende io me ne vado. Mi li metto oggi. Eh che c***o. Non si può. Dai. Non si può. Non fare il fenomeno. Non ci provà. Ogni volta che ti chiamavo in causa eri una pippa colossale. Ma non fare il fenomeno. Mamma mia. Ramsdale. Cosa salva. Ma rega. Ci svegliamo un attimo. Sarebbe il caso di darsi una piccola svegliata. Cioè no vabbè dai. Ma che è. Assist di Marcello Alende. Non è possibile. Non è possibile rega. Cioè dai. Non è possibile. Sveglia. Sveglia. Ma stiamo scherzando. Non si può perdere contro Marcello Alende eh. Non si può. Io. Veramente. Veramente. Stiamo stra. Facendo fatica. Ma che è questa ripartenza così fulminante. Vabbè. Pala nostra. Mookin. Odriozzola. Dove vai il portiere del Sassuolo? Ovviamente noi non ne approfittiamo chiaramente. Come spesso capita che mai approfittarne ma non sia mai che ne approfittiamo dell'errore degli avversari. Milenkovic. Se ne va. Un po' lento. Odriozzola. Con molta calma. Minchia Vlaovic stava per fare qualcosa di veramente incredibile. Niente. Primo tempo. Primo tempo. Alziamo un po' il ritmo ancora. Che qua. Stiamo facendo una fatica che. È veramente. Abissale. Hermoso. Mookin. Per Dusan. Odriozzola. Cos'è sta roba? Ma vai avanti. Ma vai avanti. C'hai tutto lo spazio del mondo. E fai sta roba? Cioè non si può. Dai. Allora. Un secondo. Mettiamo Mazraui. Ok. Andiamo avanti. Non riusciamo a segnare. In campionato stiamo veramente faticando. La cosa buffa che abbiamo fatto. Due gol contro il Chelsea. Ma non riusciamo a segnare contro Udinese e Sassuolo. Non per dire però. Ma che me frega. Ma che me frega. Ma che me frega. Ma fammi vedere questa azione. Che me l'ha interrotta sul più bello. Vai Nico. Ah Vlaovic però. Vlaovic. 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 A volte mi fai veramente arrabbiare. Allora. Ritmo altissimo. Ritmo altissimo. Andiamo a riprenderci questa vittoria. Poi Sassuolo sta dietro di noi. È vero che è quarto il Sassuolo? Cavolo. È meglio vincere o pareggiare almeno. Ecco. Benissimo. Benissimo ragazzi. Sta a vedere che usciamo dalla zona Champions. Cioè sta a vedere. Sta a vedere. Cioè sarebbe clamoroso. Clamoroso. Devo dire scandaloso. Se esco. Se esco. Per Nico Williams. Se esco. Se esco. Almeno lui sottoporta. Segna. Almeno. Bravo Se esco. Dai. Ma porca miseria. Masraoui. Santo cielo. Santo. Santo tutto. Santo tutto. Veramente. Santo tutto. Io vorrei almeno pareggiarla. Almeno. Non chiedo tantissimo. Io mi chiedo come questi facciano a essere. A essere quarti con Marcello Alende. Penso che se lo chiedono un po' tutti in realtà. Barco. No. Ma no. Ma non ci credo. 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 Ma non ci voglio credere veramente. A quello che ho visto. Gol mangiato. Posso fare tutto per segnare. Per pareggiare. Ma non ce la possiamo fare. Bravo Thomas. Dai dai. Un po' di verve. Su questi passaggi. Sembra. Sembra che stiamo giocando. Perché devo un fallo per forza. Allora. Bravo Masraoui. Masraoui. Proprio lui. Proprio lui. Proprio lui. 2 a 2. Che rimonta. Ho finalmente un po' di spirito di vittoria. Oh era ora. O di pareggio. Quello che abbiamo pareggiato. Va bene. Siamo comunque terzi. Ma ora c'è l'Atalanta. Che è lì. La Juve è decaduta. Incredibilmente. Allora. 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 Con molta calma ragazzi. Della Porta. Come sempre. Ottimo. Ottimo. Veramente. Grande. Masra. Grandissimo. Milinkovic sarà squalificato. Accetta la multa. Ci mancherebbe che non accettassi. Allora. Tanto c'è scritto. Dovremmo essere dedusi. Ma se Sassuolo sta. Sta sesto. Ora solo perché ha pareggiato. Siamo a più 4. Dalla quarta in classifica. Si può fare. Cerchi sta migliorando. Ok. Sono contento per lui. Ecco. Un giorno. Ramsey. 3 giorni. Ostigar. Comunque. Lo vendiamo. Il prossimo anno. Si fa male di continuo. Non si può. Non si può. Cioè. Giocavano sempre. Ma sempre una squadra ridotta. Per coppa di Ostigar. È incredibile. È incredibile. Allora io voto di Bala. Ok. Thomas sta migliorando. Thomas sta migliorando. Allora. Allora. La prossima volta. Arrivati a questo punto. La prossima volta. Vai. Talenti buoni. Lasciamoli. Dov'è. La prossima volta. Giocheremo. Anzi. Anzi. La prossima volta. Finiamo. La stagione. Empoli. Bayern. Parma. Parma. Empoli. Si può fare. Bayern ancora. E Lazio. Poi altre partite. Ne manca una. Mi sa. Eh sì. Ne manca una. Vabbè. Poi ci sarà sicuramente anche. Fa vedere. Ne manca. Milan e Genua. Si può fare. Finiamo la stagione. Vediamo come va a finire. Quindi. Pronti. Carichi. Se tutto va bene. Domani uscirà l'ultimo episodio di questa stagione. Poi ne faremo un'altra. Se riusciamo. Si dovremo farcela. Un'altra. Che sarà l'ultima. La prossima sarà l'ultima. Ma quest'anno vorrei chiudere in bellezza. La Champions. Sarebbe. Un miracolo. Bello. Ma sarebbe un miracolo. La qualificazione. La Champions. È più realistico. Tra l'altro. La Juventus. Ha giocato già. La 34esima giornata. E ha perso. Quindi. Ottimo. Veramente ottimo. Ragazzi. Ci becchiamo. Al prossimo episodio. Ciao. Ciao.